In via Paludia Gardolo, in zona soleggiata, molto ben servita dai mezzi pubblici e vicina a tutti i servizi, viene posto in vendita un appartamento molto ben tenuto. Ubicato al terzo piano, è costituito da cucina soggiorno e stanza matrimoniale, entrambe con uscita sull'ampio balcone, bagno finestrato, ripostiglio e cantina. L'unità è molto luminosa. Viene posta in vendita da privato, per cui l'acquirente potrà avvalersi del prezzo-valore andando a pagare in sede di acquisto l'imposta di registro avendo come base imponibile il valore catastale, indipendentemente dal prezzo esposto nell'atto notarile. Al prezzo indicato, che è trattabile, andranno aggiunti i costi dell'atto notarile, le imposte calcolate come di anzi specificato e la commissione d'uso all'agenzia, mentre si potrà dedurre l'eventuale sconto ottenuto in sede di trattativa. Al prossimo episodio